Domani è l'8 marzo ed è la festa delle donne. Tra l'altro è anche il compleanno di mia figlia Sara, quindi per noi è un giorno di grande festa, doppia festa. Tutte le donne che mi seguono sui vari social, metto dei post dedicati a loro per fargli gli auguri. Le donne che conosco in prima persona, gli mando un messaggio per me. La festa della donna è sempre un giorno importante perché senza dubbio le donne sono un pilastro importante della nostra vita. Non potrei immaginare un mondo se non ci fossero le donne. Ma domani è anche un giorno particolare, è la prima volta che solo per le donne, da domani mattina alle ore 0, domani sera alle ore 24, solo domani è solo il corso base di cinofilia naturale, lo sconto per loro del 50%. Quindi, sia che voi vogliate fare un regalo alle vostre donne, alla vostra donna, regalandogli questo videocorso, domani è il giorno giusto per farlo e pagarlo solo metà prezzo, sia che ve lo vogliate regalare voi. È anche un modo così per accontentare un po' quelli che si lamentano, che vedono questi videocorsi che aumentano sempre di prezzo, che saranno destinati ancora ad aumentare, perché il valore è tanto, dopo che ci sono appresi alcuni dettagli che ci sono nei miei videocorsi, basta vedere le testimonianze che molti rilassiano fra i miei allievi, la vita col proprio cane cambia decisamente, perché capisco quelli che mettono, io amo il mio cane alla follia, amo il mio cane più di me stesso, i cani sono meglio degli uomini, guai se non ci fossero i cani, hanno più d'umano loro delle persone, così come quelli che sono convinti, che dicono il cane mi ama, siamo una cosa sola, il mio cane non ha bisogno di altri cani, perché ci sono già io, abbiamo creato questo binomio inscendibile, insomma capisco tutte queste cose, perché la cinofilia moderna è fatta di queste cose e molti basano un po' la loro attività su questo, però io sono un cinofilo, un po' attempato come età e anche un po' attempato come esperienza con i cani e anche con i lupi, ho studiato in tutto il mondo, sono tanti anni che insegno cinofilia, vendo cani, in particolare questi pastori dell'Asia centrale, di natura aborigina, che seleziono sia per la guardia alla casa che per la guardia alle gregi e quindi ho fatto una certa esperienza con i cani. A volte ci sono persone sui social che mi contestano, io non voglio fare il presuntuoso nel dire beh io ho scritto 12 libri, ho fatto adesso questi 8 corsi dove dico, non solo metto per iscritto, ma spiego nei dettagli cos'è secondo me la cinofilia e cosa bisognerebbe fare per avere quel rapporto con i cani che si è sempre desiderato, ho tenuto convegni, ho creato federazioni, ho formato educatori di cinofilia naturale, istruttori, consulenti per cani da guardia, tecniche cinofili per cani antilupo, quindi quello che io vi scrivo nei miei post è frutto di esperienza, ma specialmente ho allevato migliaia di cani e ci sono persone che di cani ne hanno avuto uno, due, tre, cinque, dieci, cambia poco da uno a dieci, cambia quando uno vive tutto il giorno con i cani e ha già affrontato tantissime casistiche. Quindi in sintesi io mi oriento verso le persone che mi seguono, che fanno un percorso con me, che studiano cinofili e quasi mai sono quelle che poi si lanciano in questi commenti smisurati. Capisco anche quelli che dai commenti si aspettano una mia risposta e cercano magari di carpirmi qualche informazione, ma io divido in modo netto chi ha deciso, come ho sempre fatto io, di investire un po' di soldi e un po' di tempo per imparare la cinofilia e chi vuole solo cazzeggiare. E allora premio sempre quelle persone che mi dimostrano di voler far qualcosa di reale, qualcosa che va al di là delle parole, dei commenti, delle considerazioni così improvvisate e ci sono sempre delle occasioni. Domani, solo domani, per la festa della donna, seguendo un po' queste istruzioni che vi allego, potrete avere il videocorso base di cinofilia naturale, ma solo se lo regalate ad una vostra donna, quindi vi date il nome, la mail alla quale io manderò il videocorso o se ve lo volete regalare voi, il videocorso vi costerà il 50% del prezzo normale. Trovate tutte le istruzioni qua legate e già in anticipo faccio l'augurio per domani a tutte le donne. Buon 8 maggio, festa di tutte le donne. A presto!